Sento un artista che quest'anno ha partecipato fino all'ultimissimo provino di Ti lascio una canzone per Rai 1, poi chiaramente le cose vanno come vanno ma per noi è sempre un grandissimo artista. Signori e signori, Samuele! Ciao Samu! Senti, ma questa esperienza per questi provini Rai con il maestro Ti lascio una canzone che poi è il tuo mito perché da piccolissimo già guardavi la trasmissione, sognavi di andare lì e quest'anno hai sfiorato per un pelo la trasmissione e ti hanno detto comunque di ripresentarti l'anno prossimo perché comunque sei molto molto piaciuto per il tuo repertorio. Mi hanno nominato il ragazzino degli anni sessanta. E certo, e voglio dire dire sessanta di te è già anche troppo avanti perché te scavi nel più passato, nel passato più profondo. Allora Samuele che canzone ci puoi ascoltare oggi? Quando vedrai la mia ragazza di Little Tony. Una canzone di quale anno lo sai? Sanremo? Sessantotto. Sessantotto, quindi figuriamoci un po'. Allora, quando vedrai la mia ragazza, signori e signori, Samuele! Amico mio! Quando a casa tornerai e vedrai la mia ragazza, devi dirle tutto quello che mi sento dentro al cuore. Dillo che ormai io penso da lei che vorrei se non sapessi di te. E tra quanto tempo ritornerò e se poi ci sarà anche il tempo che mi sento dentro di lei. Dei aspettare me che mi ho. Se lei mi avventerà, tu che lo sai, tu devi dirle che quando vedo un'altra donna penso tutto da lei. Eh 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 Di queste le dirai, se tu dai, che c'è qualcuno che, ora sei sul mio posto del tuo cuore Che lei, io le credo, quando ritornerai, non di niente Io capirò, lo sai, non di niente, non dire niente mai In un bar ci saranno due misteri con noi Ehi, ehi, ehi Ma si figurai che lei non pensa a me, se prevai Di quelle dirai, se tu dai, che c'è qualcuno che, ora sei Che mostro del tuo cuore, che lei, io le credo, quando ritornerai Non viene gente, io capirò lo sai Non viene gente, non viene gente mai E non va rimarando duele gente noi Grazie Samuele Grande cantante, come avete sentito